Inizia a recitare giovanissima in teatro, Eduardo de Filippo la scrittura per alcune commedie, sino a quando scoperta da Lina Wertmuller debutta nel cinema nel 1973, nel ruolo di Tripolina in film d'amore ed anarchia. Prosegue la sua carriera dividendosi tra cinema teatro e televisione dove appare dai primi anni 70. Nel 1973 riceve la targa Mario Gromo alla miglior attrice esordiente per film d'amore ed anarchia, di Lina Wertmuller, poi il nastro d'argento come migliore attrice esordiente, il David di Donatello e il premio Antonio De Curtis.